I soldi non stanno sugli alberi, quindi questo paese deve decidere se vuole puntare sul lavoro e quindi le risorse le vuole destinare sul lavoro, sulla possibilità di crearlo, su dare risposte dove il lavoro c'è, oppure se vuole continuare a buttare miliardi, non tutti e 20, ma miliardi su una misura che il lavoro non produce. Noi siamo al paradosso che spendiamo, in questi anni abbiamo preso oltre 20 miliardi per il reddito, ci sono posti di lavoro e non si trova chi può lavorare, c'è una povertà che aumenta e le misure che ci sono non funzionano, è evidente, cambiamole.